La mostra corrispondente permette al Museo di Villa Giulia di vivere l'arte etrusca, l'arte rinascimentale, l'arte contemporanea, o meglio, filtrare e guardare al passato attraverso lo sguardo del contemporaneo. 16 artisti, quindi tutti contemporanei, tutti più o meno giovani, tutti figurativi. Alessandra Carloni, Casetti, Mannelli, Marzulli, Davide Buma, Quaresima e ci sono anche io. L'arte contemporanea non è soltanto l'arte concettuale, ma l'arte contemporanea è anche arte figurativa, arte bella. Grazie